Tre arresti e l'identificazione di tutti i componenti del branco, per un totale di otto ragazzi. Sono i risultati delle indagini e dell'attività portata avanti dalla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Fano, che questa mattina ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare a firma del GIP di Pesaro e condotto presso il carcere di Villa Fastigi, tre giovani del gruppo che lo scorso 8 maggio aveva aggredito e rapinato due ragazzi pesaresi nei pressi della Rocca Malatestiana di Fano. In particolare, una delle due vittime era stata violentamente picchiata e ferita per aver difeso l'amico, preso precedentemente di mira dal branco per avere lo smalto nero sulle unghie. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno inoltre permesso di ricostruire le due distinte rapine operate dal gruppo nell'arco di breve tempo. Nel primo caso, il branco avrebbe accerchiato l'autovettura di due giovani, costringendoli a consegnargli un braccialetto ed un telefono. Pochi minuti dopo, gli stessi soggetti avrebbero individuato nei pressi del parcheggio della Rocca la coppia di amici pesaresi, vittime oltre che dell'aggressione anche del furto di un cellulare e di un marsupio. In entrambi i casi, il gruppo, i cui componenti risultavano anche aver assunto dell'alcol, ha agito ponendo in essere pesanti provocazioni nei confronti delle giovani vittime, esternando odio nei loro confronti e denigrandone l'aspetto fisico e ricorrendo alla violenza. Quattro degli otto componenti del gruppo risultano essere minorenni. Dei tre soggetti condotti in cella, invece, il primo, considerato il leader della banda, risulta essere un moldavo già noto alle forze dell'ordine, il secondo un italiano di origine nordafricana già ospite di una comunità educativa della zona e il terzo di origine marocchina. Uno dei minori facente parte del branco era già stato sottoposto alla misura della custodia cautelare presso un istituto per minori. Grazie. Grazie.